ciao a tutti e benvenuti su my football jersey io sono stefano e oggi vi presento la seconda maglia dell'inter miami per l'anno 21 e 22 nelle versioni fan quella cioè dedicata ai tifosi ma ora andiamo subito a vedere tutti i dettagli della maglia ci vediamo alla fine ciao la maglia nera con le strisce adidas color rosa frontalmente e sulle spalle sono visibili delle foglie di palma in controluce lo stema del club e il logo adidas sono ricamati questa maglia non vi è main sponsor in controluce si possono vedere le foglie delle palme che vi dicevo all'interno del colletto c'è questa fascia azzurra le strisce adidas sono cucite la maglia è realizzata con la tecnologia aeroready di adidas all'interno della maglia sono presenti le etichette di lavaggio e il tag di autenticità col QR code ci siete ancora benissimo cosa ne pensate della maglia nella mia classifica questa prende quattro stelle sicuramente una bella maglia peraltro ben fatta ben costruita e di un'ottima manifattura ora prima di lasciarvi alla parte in cui vedrete le misure e la vestibilità se il video vi è piaciuto vi prego di mettere un like al video ed iscrivervi al canale ci vediamo ai prossimi appuntamenti ciao io sono alto 1,75 m e peso 70 kg e quella che vedete è una taglia medium della versione fan che vediamo ai prossimi appuntamenti